Lunedì 18 luglio, buongiorno e buon inizio di settimana ai telespettatori di L'AC. Iniziamo subito a vedere quali sono i principali fatti del giorno riportati sui giornali. Intanto la nuova strage negli USA, un ex marino afroamericano di 29 anni ne ha uccisi tre feriti altrettanti a Baton Rouge, il killer è stato poi ucciso. Poi oggi a Cleveland si apre la convention che incoronerà Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Parliamo della strage di Nizza, sono stati trasferiti nel quartiere generale dell'antiterrorismo vicino Parigi 7, fermati nell'ambito del massacro di Nizza. Si tratta di una coppia di albanesi e altri individui considerati vicini al killer. Per quanto riguarda l'incidente ferroviario, ruoterà sulla presunta alterazione fatta a penna dei registri cartacei della stazione di Andria all'interrogatorio di Vito Piccareta. Il capo stazione andriese che stamani in procura a Trani si presenterà davanti ai PM che si occupano del disastro ferroviario che ha causato 23 morti e 50 feriti. Questi dunque i principali temi. Andiamo subito a vedere come titola questa mattina il Corriere della Sera. A tutta pagina dunque la strage negli USA, la polizia USA sotto attacco. Il titolo in Louisiana, nuova strage dopo Dallas, fucile, vestiti neri, ucciso l'assalitore afroamericano e un ex Marine, tre vittime in una sparatoria. Obama, restiamo uniti, faremo giustizia. E poi ancora vediamo in questa foto il killer di Nizza per l'ustrò la zona dell'attentato, le telefonate a un militante dell'Isis, il selfie, poi il massacro. 15 giorni cruciali, sono quelli che tra la fine di giugno e il giorno della strage hanno stravolto la testa di Mohamed Bulel e hanno trasformato un autista frustrato di Nizza Est in un assassino di massa jihadista sulla Promenade des Anglais. Prima ha pensato alle armi, poi ai contatti con la rete del cadista Omar, Omsi. Infine al selfie, prima del massacro. Questi dunque i principali argomenti riportati sul Corriere della Sera. Un altro articolo, lo leggiamo insieme, migliaia di militari e di giudici agli arresti. Erdogan, non escludo la pena capitale. Siamo in Turchia e parliamo del golpe fallito. Il presidente incita le folle a restare nelle piazze. Dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulla prima pagina della Repubblica. Eccola l'apertura. USA, altri tre agenti uccisi. Trump contro Obama. Da oggi la convention dei repubblicani a Cleveland. E poi parliamo del golpe fallito in Turchia. Turchia-America, alta tensione. Erdogan piange ed evoca la pena di morte. E poi ancora la strage di Inizia. Sei dispersi italiani. Il calvario dei parenti. Il killer fu guidato. Ci sono sette fermi. Così dunque sulla Repubblica. Altri articoli. Uno è di cronaca. Arriva dalla capitale. 16 anni è violentata nel parco dei Parioli. E ancora c'è un rapporto di Banca Italia. A quei premi a pioggia e i dipendenti pubblici. Adesso ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano economico. Il sole 24 ore. Eccola l'apertura. Giustizia civile in affanno. Tre anni per un processo. Così dunque a tutta pagina. Pesano l'arretrato e le carenze nell'organico. Meno 20 per cento. I dati sulla durata delle liti. Sede per sede. Mostrano ancora un quadro preoccupante. E vediamo in basso in questa tabella. Tutti i dati relativi alla giustizia civile. E ancora sempre sulle sole 24 ore. Si parla del modello 730. Verso il click day. Entro venerdì contribuenti, caffè e professionisti. Devono inviare le dichiarazioni alle entrate. Spese sanitarie, mobile e rette scolastiche. Tra le voci da integrare. Un altro articolo riguarda gli under 30 italiani. Il primato nel lavoro fa i dati. I dati su giovani e over 50. Così dunque sul sole 24 ore. Ma subito andiamo ad approfondire i temi che riguardano la nostra regione. Lo facciamo dalla prima pagina della Gazzetta del Sud. Eccolo, in primo piano si torna a parlare dell'operazione Mamma Santissima. Gli invisibili tra Cosche e Grembiuli. Di Bernardo conferma in Calabria. L'andrangheta controlla 28 loggie su 32. Il PM antimafia Lombardo ha interrogato l'ex gran maestro del GOI. Dunque andiamo ad approfondire proprio questo articolo. Ettore Loizzo di Cosenza, il mio vice nel GOI. Persona che per me era il più alto rappresentante del GOI. Nel corso di una riunione della Giunta del Grande Oriente d'Italia. Che io indissi con urgenza nel 1993. Dopo l'inizio dell'indagine del dottor Cordova sulla massoneria. A mia precisa richiesta. disse che poteva affermare con certezza che in Calabria su 32 loggie 28 erano controllate dalla drangheta. Così dunque sulla Gazzetta del Sud. Andiamo ad altri argomenti riportati sempre in primo piano. Ieri c'è stata la protesta dei commercianti, operatori turistici e cittadini di Nicotera che hanno assediato la stazione di Rosarno per protesta per il mare sporco. Stazione bloccata per ore in 200 sui binari. Tra commercianti, operatori turistici e cittadini di Nicotera si sono riversati ieri mattina sui binari della stazione ferroviaria di Rosarno per protestare contro il mare sporco. Il blocco è durato alcune ore provocando notevoli disagi. Dieci treni hanno subito pesanti ritardi. Andiamo a fare il punto di quello che è successo proprio ieri mattina nel nostro servizio. È rientrata dopo quasi tre ore la protesta dei commercianti di Nicotera che questa mattina hanno occupato i binari della stazione ferroviaria di Rosarno. Un gesto eclatante che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria facendo infuriare i viaggiatori ma che comunque è servito a scuotere la politica regionale. Tant'è che poco dopo le 11 è giunta una mail a firma del dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Domenico Pallaria che annunciava il suo arrivo domani a Nicotera dove incontrerà una delegazione di manifestanti. Il comitato spontaneo inoltre parteciperà al tavolo tecnico già programmato per mercoledì in prefettura a Vibo Valencia con l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo. Ricevuta la comunicazione i cittadini hanno lasciato i binari e sono tornati sulle banchine. Il malcontento è scoppiato venerdì scorso quando un centinaio tra commercianti, operatori turistici e cittadini di Nicotera sono scesi in piazza per protestare contro il mare sporco che ogni anno a metà luglio viene invaso da liquami. E non è l'unico problema. Anche l'acqua che sgorga dai rubinetti si presenta marrone. E così, prima hanno occupato il municipio per poi stamattina irrompere la stazione ferroviaria. I cittadini del paese turistico del Vibonese chiedono un intervento immediato alla regione affinché metta mano al sistema di depurazione ma chiedono anche maggiori controlli da parte delle autorità preposte al fine di individuare eventuali scarichi abusivi. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. Continuiamo a parlare di ambiente perché il principale indiziato dell'inquinamento sembra essere il sistema di depurazione calabrese. Su questa notizia vediamo prima l'articolo sulla Gazzetta del Sud che parla proprio di depuratori fermi. 14 progetti a causa delle anomalie e delle convenzioni con le imprese. Gli impianti inadeguati non vengono sostituiti con grave danno dunque all'ambiente. E poi parliamo di un altro fenomeno che riguarda soprattutto il martirreno quello della colorazione verdastra. L'ARPACAL conferma a tingere il martirreno di verde la fioritura al Gale. La responsabile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente tranquillizza dunque i bagnanti ma invita allo stesso tempo i sindaci a rimuovere i rifiuti spiaggiati. Vediamo. La presenza massiccia di fioritura al Gale che sta tingendo di verde i mari della costa tirrenica facendo in qualche caso scappare i turisti è un fenomeno costantemente monitorato dall'ARPACAL che sta prelevando i campioni di acqua per escludere elementi di tossicità. Ma il problema è anche un altro. La presenza di fogna in mare per via di un sistema di depurazione inadeguato o inesistente. Ieri, dopo una segnalazione dell'ASP di Crotone e della Capitaneria di Porto è stata riscontrata un'alta presenza di escherichiacoli nelle acque antistanti un lido della città di Pitagora tratto tempestivamente vietato alla balneazione. Sul fronte delle fioriture al Gale invece interviene il direttore del dipartimento provinciale ARPACAL di Vibo Valencia. La fase di degradazione cellulare, spiega Angela Diano, è accompagnata nell'ultimo stadio anche da cattivi odori che possono dar luogo a errate interpretazioni del fenomeno. Ecco la necessità di analisi approfondite per escludere la presenza di microalghe appartenenti alle specie potenzialmente tossiche. Le analisi condotte sul campione prelevato a Nicotera dalla Capitaneria di Porto il 12 luglio scorso continua non hanno evidenziato inquinamento microbiologico mentre è stata evidenziata un'intensa fioritura di alghe responsabile della colorazione delle acque. Intanto, con una lettera inviata ai sindaci dei comuni costieri della provincia e per conoscenza agli enti territoriali e dalla prefettura, il direttore del dipartimento provinciale di Vibo Valencia dell'ARPACAL ha posto all'attenzione il problema dei rifiuti che sono spiaggiati o che vengono ritrovati nell'alveo dei torrenti. Angela Diano invita pertanto i sindaci dei comuni a rimuovere i rifiuti spiaggiati come vetro, plastica e pneumatici il tutto a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente. Da Vibo Valencia per l'AC News 24 Siamo sulla Gazzetta del Sud, sempre in prima pagina c'è la cronaca arriva dalla Mezzia Terme, intimidazione ad un agente penitenziario bomba, danneggia il garage. E ancora l'assurda fine di questa liceale di 15 anni è lutto cittadino a San Lucido, travolta la ragazza dal treno probabilmente stava parlando al telefono. Andiamo avanti, altri argomenti, si torna a parlare di trasporti ferrovia ionica, binario unico e riduzione progressiva dei servizi l'articolo a pagina 20 e poi da Vibo Valencia sangue infetto, risarcimento milionario ad un paziente. Adesso ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano del Sud l'apertura di questa mattina è dedicata purtroppo alla cronaca con l'ennesimo incidente sulle strade calabresi, finisce con l'auto contro un autobus, è successo a Rossano, perde la vita un noto professore di fisica stava facendo ritorno a casa. L'ennesimo tragico incidente sulla famigerata statale 106 vediamo in questa foto la vittima Francesco De Salvo l'ennesimo tragico incidente sulla 106 un'auto si è scontrata frontalmente con un autobus nel territorio di Rossano l'impatto è stato fatale per Francesco De Salvo un docente di fisica molto conosciuto nella cittadina ionica e poi la vedete in questa foto Maria Francesca una distrazione le è stata fatale stiamo parlando della tragedia che si è verificata a Fuscaldo la 15enne è stata investita dal treno ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Loredana Colloca 15 anni, una sconfinata tela bianca davanti da dipingere con i colori del sole, dei primi amori e delle amicizie che sembrano eterne è sfumato in un attimo il mondo di Maria Francesca Inverso studentessa del liceo Galilei di Paola Maria Francesca era conosciuta da tutti come una ragazza mite e gentile ieri sera, poco prima delle 20 la giovane si trovava in compagnia di due amici sulla banchina del binario 2 della stazione di Fuscaldo la tragedia si è consumata in un lampo la studentessa, impegnata in una conversazione telefonica si deve essere avvicinata troppo ai binari ma Fuscaldo è soprattutto una stazione di transito e in quel momento, lanciato a grande velocità sul binario 2 streccia l'Intercity Reggio Milano con a bordo circa 300 passeggeri Maria Francesca viene risucchiata dall'onda d'urto del convoglio finisce sulle rotaie attoniti gli amici e i viaggiatori che hanno percepito l'impatto a bordo del treno ma non si sono subito resi conto che in quel sussulto del convoglio è sfumata la vita di una giovanissima donna quando il treno riesce a fermare la sua corsa ha già percorso altri 700 metri Loredana Colloca per la Cineus 24 Dalla cronaca all'emergenza ambientale a Nicotera con la protesta ieri a sorpresa che si è spostata sui binari di Rosarno e in questa foto i manifestanti di Nicotera sui binari della stazione di Rosarno una protesta che è durata almeno tre ore i manifestanti hanno desistito dopo le rassicurazioni della regione di un pronto intervento e ancora sempre dal quotidiano del sud di taglio basso questa notizia che arriva da Filadelfia nel Vibonese emergenza zecca in centro storico sotto accusa a un edificio abbandonato in via Puglia zona molto frequentata dai turisti dunque l'emergenza zecca in via Puglia in pieno centro storico a Filadelfia una zona molto frequentata dai turisti la scoperta fatta da un residente che ha fatto subito la segnalazione all'Asp adesso c'è un'altra notizia che riguarda la cucina le gustose ricette e le storie dello chef Ferraro la Calabria è servita così titola stamattina il quotidiano del sud cambiamo edizione da Vibo Valencia ci spostiamo all'edizione di Reggio Calabria stessa apertura la strage sulle strade calabresi sulla famigerata 106 ne abbiamo ampiamente parlato poi la tragedia di Fuscaldo con la distrazione fatale che è costata la vita a Maria Francesca inverso la vediamo in questa foto e ancora da Nicotra a sorpresa la protesta spostata sui binari a Rosarno e poi di taglio basso una notizia che riguarda l'operazione Mamma Santissima quel no all'intitolazione del lungomare gli invisibili puntavano anche ai finanziamenti per l'area metropolitana le manovre di Paolo Romeo per evitare la dedica al sindaco defunto Italo Falcomatà il no all'intitolazione del lungomare di Reggio a Italo Falcomatà e le mire sui fondi per l'area metropolitana sconvolgenti particolari dall'inchiesta Mamma Santissima cambiamo edizione da Reggio Calabria ci spostiamo sull'edizione di Vibo Valenzi l'abbiamo già vista vediamo l'edizione di Catanzaro La Mezzia e Crotone ecco sempre di taglio basso cambia l'apertura la notizia arriva da Crotone riguarda la casa famiglia Lagher arrestata la titolare trovata in un villaggio turistico di Ciro Marina dove si era nascosta con il marito la donna si era resa irreperibile dopo il blitz delle fiamme gialle nella struttura l'hanno trovata dunque in questo villaggio turistico a Ciro Marina e arrestata la titolare della casa famiglia Lagher era sfuggita al blitz della finanza blitz scattato proprio pochi giorni fa all'interno di questa struttura le immagini hanno ripreso maltrattamenti ad anziani e a disabili e ancora vediamo l'edizione di Cosenza taglio basso dedicato alla politica ecco perché Occhiuto è incompatibile il virgolettato Guccione scrive una lettera aperta al primo cittadino ci sono gravi omissioni dice sotto accusa pignoramenti mancata comparizione dell'ente e responsabilità lettera aperta dunque di Carlo Guccione al sindaco Occhiuto il consigliere torna sulla questione dell'incompatibilità ebbene adesso ci trasferiamo a Catanzaro perché si darà nei prossimi giorni un consiglio comunale aperto congiunto tra Catanzaro la mezza Soverato e Soveria Mannelli aperto al mondo sindacale per discutere delle possibili soluzioni da mettere in campo per fronteggiare la grave carenza di organico all'interno dell'ospedale pugliese Ciaccio e tutti gli altri presidi dell'aspe di Catanzaro e la proposta del sindaco della città capoluogo di Regione Sergio Abramo per chiedere al commissario Scura un intervento urgente e risolutore ma ascoltiamo il sindaco di Catanzaro in questa intervista insieme a comune di Lamezia comune di Soverato e Sovria Mannelli dove ci sono i presidi ospedalieri perché la situazione è veramente grave per il personale stiamo andando verso il periodo estivo tutti sappiamo cosa succede nel periodo estivo soprattutto nei pronti soccorsi è una situazione davvero grave perché su queste graduatorie che sono state portate avanti dalla pugliese abbiamo avuto pochissime risposte perché sono a tempo determinato fino al mese di ottobre abbiamo bisogno di invece acquisire personale a tempo indeterminato è stato vicino sin da subito ai sindacati? ma credo che i sindacati stiano facendo una battaglia giusta con molta responsabilità hanno voluto fare sciopero per non arrecare ulteriori danni all'utenza però credo che un segnale debba darlo anche la politica anche se non abbiamo competenza anche se siamo stati commissariati sul vero senso della parola perché è il commissario che decide tutto anche la regione è stata esautorata però dobbiamo fare anche la nostra parte quindi stare vicino a tutti quei lavoratori e tutti quei professionisti che ogni giorno rischiano sulla propria pelle purtroppo perdere assistenza ai malati Rossella Galati per la Cineus 24 Restiamo a Catanzaro ci spostiamo sulle pagine interne del quotidiano del sud l'apertura di questa mattina è dedicata all'arte che offende la memoria così il titolo a tutta pagina continuano le incursioni notturne all'interno del vecchio ospedale di Via Acri e Curva Mario T9 alcune sigle dei soliti ignoti sulle nuove opere ciò che abbiamo scritto nei giorni scorsi sull'ospedale di Via Acri non è servito a nulla scrive l'articolo a firma di Vincenzo Orsini le incursioni notturne continuano a ritmo costante quasi come una sfida Curva Mario T9 sono solo alcune delle sigle con le quali i soliti ignoti hanno firmato le loro nuove opere un lavoro quasi quotidiano tutto ciò affrontando rischi davvero considerevoli legati ai percorsi da effettuare all'interno della struttura con solai palesemente deteriorati e instabili questa è la denuncia riportata sulle pagine del quotidiano del sud ancora da Catanzaro di taglio basso questa notizia un'iniziativa che riguarda il museo del rock ospita il vescovo pop presentato il nuovo libro di Monsignor Stagliano restiamo nel Catanzarese in particolare ci trasferiamo a Curinga dove sono previsti incentivi economici e sgravi fiscali per chi adotta cani randagi ma vediamo di cosa si tratta in questo servizio incentivi economici e sgravi fiscali sono queste alcune delle agevolazioni pensate dalla comune di Curinga per facilitare l'adozione dei cani randagi tanti troppi quelli che affollano il canile comunale con un aggravio dei costi per lente e condizioni poco ottimali per gli ospiti a quattro zampe da qui l'idea di coinvolgere le famiglie e le associazioni di categoria del paese aiutandole e sostenendole anche economicamente verificati alcuni requisiti le famiglie potranno godere così di un contributo di 400 euro che verrà a loro versato appurando regolarmente lo stato di benessere dell'animale altra agevolazione prevista è il contributo economico pari a quello della Tari per un massimo di 250 euro annui in questo caso verrà verificato che l'adottante sia in regola con tutti gli obblighi tributari del comune di Curinga per poter essere ritenuti doni a ricevere in adozione un cane bisognerà avere compiuto 18 anni non avere avuto né personalmente né in famiglia condanne penali per maltrattamenti dare garanzie su adeguati trattamenti vaccinazioni e cure veterinarie chi non potesse tenere un cane con sé può comunque adottarlo a distanza e scegliere il suo amico a quattro zampe al canile Tiziana Bagnato per la C News 24 e ancora dalle pagine interne del quotidiano del sud siamo a Cosenza c'è la politica in primo piano è incompatibile ecco perché il virgolettato a tutta pagina è il contenuto della lettera aperta di Guccione al sindaco Chiuto ci sono gravi omissioni dice Guccione e pignoramenti mancata comparizione dell'ente e responsabilità dunque era stato uno degli argomenti di discussione e di scontro delle ultime amministrative ora dopo la sconfitta elettorale il candidato del centrosinistra Carlo Guccione torna all'attacco a tenere banco è sempre il caso dei pignoramenti del sindaco Mario Chiuto e questa volta Guccione alza la voce attraverso una lettera aperta al primo cittadino lettera riportata integralmente sull'edizione del quotidiano del sud ancora la cronaca ci sono alcuni un'operazione dei carabinieri denunciati sette parcheggiatori abusivi nel fine settimana intensificati i servizi da parte della compagnia dei carabinieri dall'edizione di Cosenza dalle pagine di Cosenza ci trasferiamo a Reggio Calabria eccola l'operazione mamma santissima in primo piano emergono nuovi dettagli l'intitolazione a Italo osteggiata Paolo Romeo contrario per i vantaggi in termini di visibilità al candidato Naccari manovre per evitare la dedica del lungomare al sindaco defunto andiamo dunque ad approfondire meglio questo articolo l'intitolazione del lungomare del defunto sindaco Italo Falcomatà alla vigilia del voto per le comunali del 2002 avrebbe portato un vantaggio elettorale in termini di visibilità al candidato Demetrio Naccari Carlizzi Paolo Romeo si sarebbe mosso per impedire l'evento e avrebbe interferito anche sulla visibilità mediatica di Naccari piegando ai propri interessi le regole dettate per la par condicio così dunque riporta stamattina il quotidiano del sud e così in particolare si legge nell'ordinanza emessa dal GIP Domenico Santoro nell'ambito proprio dell'operazione Mamma Santissima e ancora vediamo questo altro articolo che riguarda sempre l'operazione Mamma Santissima gli invisibili puntavano ai finanziamenti l'area metropolitana era vista come opportunità di business per clan e massoni le mire sui fondi pubblici e adesso da Reggio Calabria ci spostiamo su Vibo Valencia eccola l'apertura si parla di beni archeologici a beneficio del neo sovintendente il titolo i nuovi tratti delle mura greche ma anche la questione dell'area Cofino breve cronistoria non ufficiale della spinosa vicenda di via Paolo Orsi e poi sempre dalle pagine di Vibo Valencia eccola frontiere accoglienza lo sfogo di Pacilè l'ordine del giorno proposto dal MFE veicolato dallo schiavo bocciato dalla maggioranza adesso parliamo torniamo a parlare di ambiente in particolare della vicenda Ecosystem la ditta per lo smaltimento dei rifiuti di Lamezia Terme che si è giudicata in appalto il lotto numero 4 delle ecoballe campane il rischio smentito a dire il vero dall'azienda è che i rifiuti arrivino in Calabria ora interviene anche il collettivo Casa Rossa 40 che chiede al sindaco Paolo Mascaro e dal governatore Oliverio di prendere una posizione chiara sulla vicenda vediamo tante troppe versioni quelle date dall'Ecosystem l'azienda Lametina che ha vinto l'appalto per lo smaltimento dell'otto numero 4 delle ecoballe campane tante le voci che si sono sollevate contro l'ipotesi che i rifiuti arrivassero nei siti calabresi con diverse smentite da parte dell'azienda l'ultima di queste in ordine di tempo asserisce che i rifiuti verranno trattati in loco in campagna per poi essere direttamente trasportati in Portogallo dove una discarica li accoglierà l'Ecosystem ha smentito anche che si tratti di rifiuti pericolosi ma questa e ad altre esternazioni risponde il collettivo Casa Rossa 40 secondo cui invece il materiale campano non è trattato e proprio per questo sarebbe prevista anche un'analisi radiometrica a riprova che potrebbe contenere materiale radioattivo maggiore trasparenza su questa operazione vederci chiaro fino in fondo perché la storia di queste coballe che ho già detto prima è abbastanza chiara e quindi non possono essere smaltiti in maniera come dire nel silenzio più totale e poi l'invito al sindaco di La Mezzaterme Paolo Mascaro e al governatore Oliverio a prendere una posizione sulla vicenda invitiamo intanto Oliverio a prendere una posizione e soprattutto invitiamo il sindaco delle città di La Mezzaterme a prendere una posizione non soltanto in qualità appunto di sindaco e rappresentante di forze politiche ma anche soprattutto in qualità di massimo esponente per la tutela e la salvaguardia del territorio e della salute cittadina Tiziana Bagnato per la C News 24 In chiusura giusto il tempo per vedere insieme l'apertura sulla gazzetta dello sport parla The King Claudio Io Ranieri il discorso del re il titolo a tutta pagina il mio Lecaster deve ripartire da zero Vardi ha fatto una scelta alla GG Riva Conte il Chelsea fatti per piacersi Mu può essere il nuovo Ferguson in Italia la Juventus Corrida sola avventura è un maestro punti sui giovani così dunque in questa intervista Claudio Ranieri il re del premier con il Leicaster e così dunque il titolo a tutta pagina sulla gazzetta dello sport il tempo a mia disposizione termina qui vi ringrazio per averci preferito noi con la prima informazione del mattino torniamo domani a partire come sempre dalle 7 e poi vi ricordo gli altri appuntamenti con l'informazione oggi alle 14 l'edizione giorno del nostro telegiornale e alle 19.30 l'edizione serale ancora grazie buona giornata visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal 30 maggio le edizioni della C News 24 cambiano orario alle 14 alle 19.30 alle 22.30 e alle 24 i calabresi sono informati a presto